e siamo tornati da vincenza del verme nel suo mondo vincenza ci siamo viste qualche settimana fa dietro di noi erano in corso i lavori per l'allestimento dell'angolo pandora quest'oggi però andiamo oltre c'è la luce Svaroschi maestri nella luce e abbiamo l'onore in gioielleria di avere la boutique Svaroschi e di avere l'intera collezione Svaroschi meravigliosa tra l'altro abbiamo anche una collezione che arriva per la prima volta in Italia in Europa perché è stata presentata al museo di Vienna ed è tutta quanta la collezione Angelic nel colore nero abbiamo questo primato noi a Vallo nel Cilento assolutamente guarda io ho i brividi se è un sogno non mi svegliate lasciatemi dormire l'azzurro potrebbe farci pensare ad un sogno assolutamente sì abbiamo tutto il nuovo allestimento della boutique Svaroschi siamo veramente tra i primi ad avere questo allestimento e non so un sogno che diventa uno spettacolo possiamo anche avvicinarci così ci fai vedere qualche chicca io l'occhio l'ho buttato al centro eh questa qui guarda questa è meravigliosa ma davvero la collezione è tutta quanta spettacolare parliamo di casa Svaroschi quindi voglio dire maestri nella luce un'azienda che esiste dal 1895 è un regalo Svaroschi da che mondo in mondo è un regalo Svaroschi che tutte noi donne vorremmo per me è un grande onore arricchire la mia gioielleria con casa Svaroschi dopo Pandora davvero siamo arrivati ad avere i migliori marchi i primi però Vincenza tu lo dici con questo splendido sorriso è la luce che in maniera naturale ti appartiene però un risultato non è arrivato a caso c'è tanto tanto lavoro ma tanta passione tanta passione adoro il mio lavoro tanto sacrificio davvero io entro la mattina ma non so quando esco perché esco davvero quando è tutto perfetto quando è tutto sistemato tutti i clienti accontentati anzi voglio usare approfitto delle vostre telecamere per ringraziare tutti i miei clienti assolutamente tutti quelli che mi hanno visto anche crescere li ringrazio tantissimo e li aspetto in questo nuovo mondo meraviglioso e il rapporto di collaborazione certo assolutamente sì i clienti per me sono fondamentali quando entrano mi cercano quando mi dicono che sono soddisfatti dei loro acquisti io sono felice è la mia soddisfazione più grande dall'azzurro alla rosa dall'azzurro a rosa per non parlare poi di tutti quanti gli altri marchi Swarovski e Pandora in questo momento essere all'apice essere veramente sulla punta di un iceberg dove vogliamo arrivare il prossimo traguardo vediamo vediamo per il momento bellissimo tutto quanto questo me lo godo veramente mi farebbe piacere far venire tutti i miei clienti per far vedere tutto questo pensiamo di un affetto loro e anche merito loro quindi davvero li ringrazio tantissimo grazie sempre pure a voi che siete sempre attenti un piacere siamo qui per sulla tua sedia centrale tu sei presente a ballo però con tante reali assolutamente sì guarda io sono partita da zero ho lavorato passo passo e questa è la cosa più bella perché quando poi ti arrivano due colossi come Swarovski e Pandora dici allora quel passo passo quel sacrificio uno dopo l'altro ce l'ho fatta cioè il sacrificio ripaga sempre 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 è la passione che metto nel mio lavoro credo che sia uno degli elementi fondamentali entro nella mia gioielleria ogni giorno con lo stesso desiderio e voglia di lavorare mai stanca grazie a tutti